Ciao a tutti, mi chiamo Gianluigi Bonanome e sono qui per presentarvi il mio ultimo libro che si chiama Non mi piace, il contromanuale di Facebook. Elenca 101 cose da non fare assolutamente su social network di Zuckerberg. L'idea è nata così, le librerie sono piene di manuali che dicono che cosa fare, mancava il contromanuale, ossia tutti gli errori che sarebbe meglio evitare online appunto su social network. Ci sono tre tipi sostanzialmente di errori, ci sono quelli più banali, quelli più veniali, quali invitare gli altri continuamente a giocare, oppure inviare i test, oppure le catene di Sant'Antonio e via dicendo. Ci sono errori un po' più gravi, tipo la sovraesposizione dei nostri figli, dei nostri ragazzi, e poi ci sono gli errori decisamente da evitare, decisamente gravi, come per esempio mettere a repentaglio i propri dati sensibili oppure farsi rubare l'identità. Tipico il caso della ragazzina che contenta per aver ricevuto in dono una nuova carta di credito ha pubblicato online la foto di questa carta, con in bella evidenza il numero della carta, la scadenza, il nome del titolare e altre informazioni di questo tipo. Detto questo, gli errori sono veramente tanti, tantissimi, molti li faccio anch'io perché comunque si parla anche di selfie, food porn e cose del genere. Bene, dove si trova questo libro? Beh, si trova sia in cartaceo in tutte le librerie che in digitale, soprattutto sul sito dell'editore www.ledizioni.it Per altre informazioni sul libro potete trovarmi su www.gianluigibuonanomi.com Grazie e alla prossima!